Le recenti dichiarazioni del Vice Presidente della Camera di Commercio di Napoli hanno un po' destato perplessità nei commercianti e nei rappresentanti delle associazioni di categoria dell'Isola d'Ischia, soprattutto per questa forse mancanza di presenza delle associazioni ischitane presso la Camera di Commercio. Marco Laraspata, di fronte alle dichiarazioni di lungo, qual è stata la tua reazione? La mia reazione è stata una reazione abbastanza veloce e rapida perché mi sono consultato con il direttivo e con i due vicepresidenti e abbiamo deciso di mandare una PEC per un incontro, quindi stamattina ho ricevuto già una telefonata per la quale ci chiedono di confermare una data e poi andiamo a questo incontro e vediamo un attimino il da farsi. Noi non siamo fermi, siamo stati sollecitati e questo impulso che ci hanno dato l'abbiamo subito messo in moto. Intanto però state lavorando per le prossime attività di quest'anno e quindi incontrerete l'amministrazione comunale? Sì, a breve ci incontreremo ad Ischia per definire, sperando il Natale 2020, con l'estate anche, in questo punto ci troviamo, anche se siamo in ritardo per l'estate, però ci proviamo. E tentare anche di organizzare e di replicare eventuali manifestazioni che abbiamo fatto l'anno scorso. Questo nel comune di Ischia e poi abbiamo appuntamento anche negli altri comuni in modo da poter tentare di far unire insieme queste voci per tentare di fare un unico cartellone. Un unico cartellone però con uniche iniziative, puntando spero anche su una unificazione di intenti con le altre associazioni. Ma guarda, normalmente dovrebbero essere invitate tutte le associazioni a un incontro istituzionale e quindi va fatto un verbale, va redatto, va firmato e controfirmato. Quindi molto probabilmente quando ci saranno queste convocazioni verranno invitate tutte quante. Laddove non ci sia l'invito di altre associazioni faremo in modo di essere tutti presenti, in modo da ognuno da dire la sua e tentare di conciliare le migliori idee positive di tutti.